Con Andrea Pellegrino, reduce dalla finale in Sardegna e dalla vittoria dell'Open BNL di Bari. Andrea, buoni risultati in questo avvio di stagione, sei soddisfatto di come hai iniziato? Sì, è stato un buonissimo inizio sulla terra quest'anno, anche perché ho dovuto giocare il future data la mia classifica intermedia, quindi non sempre entro nei torni challenger, però mi serve fare tante partite. Quello che sono riuscito a fare ora nelle ultime tre settimane mi dà tanta fiducia, mi dà tanta motivazione a continuare i miei allenamenti sempre al massimo e spero di poter giocare altrettante partite nelle prossime settimane. Per i tuoi allenamenti questa settimana hai scelto la Room Tennis Academy, per la prima volta sei venuto qui. Come ti sei trovato e dal tuo punto di vista come vedi questa struttura? Mi sono trovato veramente bene, anche perché conosco da tantissimo tempo Vincenzo, c'è anche Matteo e tutti i ragazzi che sono qui sono veramente bravi, mi sono trovato bene, c'è un bellissimo ambiente, molto tranquillo e quindi è veramente piacevole allenarsi. Ti dico, è stato dei giorni molto positivi e spero di poter tornarci presto. L'ultimo programmi per le prossime settimane? Giocherò la settimana prossima che inizia lunedì il Challenger a Barletta, poi penso un 25.000 a Pula e spero poi di entrare nel Challenger di Francavilla la settimana successiva al future e vediamo poi in seguito come si svolgeranno le programmazioni. In bocca al lupo! Grazie mille!